Nella tua esperienza quotidiana quanto è difficile gestire questa comunicazione nei due sensi perché l'utente può anche mandarci dei messaggi che non sono così positivi? È difficile perché è una relazione, quindi come tutte le relazioni dobbiamo noi porci in un atteggiamento di ascolto e dovrebbe farlo anche il cittadino. Si creano problemi quando va in crash questo rapporto, questo sistema di comunicazioni. Quindi il sistema, la via d'uscita è sempre cercare di capire l'altro anche un po' in modo empatico di cosa ha bisogno, che cosa cerca nella pubblica amministrazione. Pubblica amministrazione che quindi deve mettersi in gioco? Assolutamente, non può essere più arroccata come lo era anni fa, deve aprirsi in un primo momento perché lo dicono le leggi, lo dice il FOIA, lo dicono tutte le nuove leggi che ci riguardano. E poi è proprio un nuovo atteggiamento, dobbiamo cambiare, dobbiamo aprire e raccontare quello che facciamo.